Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo del mio nuovo setup audio e video per il tutorial. Come prima cosa vi informo che ho preso un microfono delle rode NT-USB, collegandolo a Linux l'ho visto subito come una periferica di input alza. Infatti dentro OBS Studio ho dovuto scegliere come input di registrazione alza e nella lista si sceglie microfono NT-USB. Si può fare la stessa cosa anche in Audacity e configurare che Audacity registri dal microfono NT-USB tramite alza. Non è possibile utilizzare tutti i due programmi assieme, perché il primo che viene aperto acquisisce in priorità il microfono e il secondo non riesce più a vederlo. Quindi non è possibile registrare l'audio del microfono sia con OBS Studio che con Audacity contemporaneamente. Ma questo non lo vedo un problema. Adesso vi faccio vedere il microfono che l'ho nascosto, è fuori dal visuale. Eccolo qua. E adesso lo rimetto fuori campo. Intanto si sente bene lo stesso anche se il microfono è fuori campo. Per questo video tutorial è tutto. Ci vediamo al prossimo.